Ciao, sono Salvatore Annucci, ho 21 anni e ho di recente conseguito una laurea in economia e commercio e proseguo gli studi in consulenza e management aziendale. Il lavoro dei miei sogni? Beh, diventare un manager. Mi affascinano le posizioni che prevedono l'assunzione di decisioni e responsabilità. Sono una persona molto precisa, dinamica, abbastanza formale e amo l'ordine e l'organizzazione. Ritengo che sia molto importante rispettare le regole, in qualsiasi contesto. Mi piace lo sport, il buon cibo e l'home design. In definitiva, nella vita ritengo che bisogna impegnarsi e puntare costantemente al miglioramento continuo. Grazie per l'attenzione, la mia mail è annucci19-gmail.com e il mio profilo LinkedIn è Salvatore Annucci. Ciao! 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 Ciao!